Ciao a tutti! Sono Hiro. Oggi vi presento come preparare tsukune kebab. Tsukune sono delle polpette di pollo alla giapponese. Oggi le agogiamo con la piadina insieme alle verdure. Facciamo trasformare il kebab. È una mia invenzione. Sono due cose che mi piacciono messe insieme. Accompagniamo con la maionese allo yuzu kosho. Lo yuzu è un agrume giapponese. Questo è il proprio prodotto yuzu kosho. Sostanzialmente è una pasta fatta con la scorza di yuzu e peperoncino verde in salamoia. Ha un aroma rinfrescante di agrume e il sapore piccante di peperoncino. Si sposa bene con pollo. Lo potete trovare nei negozi di alimentari asiatici o nei negozi online. L'aspetto simile è quello di wasabi, quindi non sbagliatelo. Siete pronti? Cominciamo a preparare! Ciao! 3 4 5 5 6 6 8 8 9 9 10 11 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.